Quante volte ti sei sentito come i personaggi di questo mio disegno? Fuori aggressivo, reattivo, a volte anche feroce, rigido, e dentro invece senti premere una parte più tenera, gentile, che vorrebbe uscire per esprimere quell'essenza di te che raramente riesci a fare. Se vuoi sapere qualcosa di più sugli automatismi, segui il mio video.